Ehi Dalì! Hai mai avuto bisogno di dei fazzoletti? Beh, la risposta sono quelli del PINGO DOCCE! Ragazzi, i fazzoletti del PINGO DOCCE sono i migliori! Sono economici, pichi e rosa, perché sì, perché sono belli rosa. Ehm, i fazzoletti del PINGO DOCCE sono molto utili per chi ha il raffreddore, tipo... Il tessuto è molto fico, perchè è molto resistente. Non viene con l'accentiva quello che volete buttarci. Sono anche per sputare le vostre gomme da masticare, che non volete più masticare. Ragazzi, non voglio riuscirvi per tutto il PINGO DOCCE 2, perché questi fazzoletti sono molto belli. E con i ventordici mi pare il voto migliore da dare, perchè... Ci sono stati in un PINGO DOCCE 2. Sì... Sì...